Vittor, un inizio molto difficile, sotto di due gol dopo dieci minuti, l'avevate un po' riaperta, poi dopo prima espulsione, seconda espulsione... Abbiamo fatto tutto noi. Praticamente sì. Abbiamo fatto tutto noi, abbiamo sbagliato l'approccio dei primi dieci minuti, abbiamo concesso due gol. Poi dopo c'è stata l'espulsione, siamo riusciti a riaprirla. Poi secondo me anche 9 contro 11 se la partita era ancora sul 2-1 abbiamo preso il palo, abbiamo avuto un'altra occasione alla fine. Le partite rimangono sempre... Poteva essere ancora in rigore, ci ha mattato. Però abbiamo fatto tutto noi. E' una squadra come la nostra, con le esperienze che abbiamo non possiamo commettere degli errori così. Purtroppo la maledizione è del derby. Sulle espulsioni sembra... c'è un certo nervosismo diciamo, possiamo dire. Vabbè, quella di Ballardini è stato un fallo di gioco... non lo so... giusto o sbagliato, non lo so, ha fatto un fallo di gioco. A volte ammuniscono, a volte... adesso l'han cacciato fuori. Alla seconda è stato... è stato a colpa del nostro giocatore di Gigliotti, perché probabilmente gli ha detto qualcosa, se no l'ha detto non lo caccio fuori. a meno che... si è impazzito l'abito. No, no, cioè non abbiamo sentito cosa, ma gli ha detto qualcosa. Si, per averlo cacciato fuori. Non abbiamo sentito cosa. Sono errori che non vanno fatti. Perché la partita era ancora... si poteva ancora rimediare, secondo me. Poi gli episodi che abbiamo avuto l'hanno dimostrato. Anche se è molto a caldo, molto molto a caldo, ti dai una qualche spiegazione su questo inizio così... negativo? È un problema che abbiamo... che abbiamo avuto quest'anno, che abbiamo... abbiamo delle partite dove meritiamo degli alti e dei bassi troppo... troppi, troppo. Pensavamo... pensavamo di aver risolto questo problema, invece oggi... i primi dieci minuti... non abbiamo... si... non abbiamo letto bene la partita... non ha... siamo entrati in campo molli... non abbiamo fatto... Perché la partita era semplice da interpretare e da giocare. L'avevamo anche preparata bene... sapevamo che ci venivano... cioè... che erano aggressivi, così... bastava saltare il primo pressing e... infatti tutte le volte che siamo andati sugli attaccanti e li abbiamo messi in difficoltà. Abbiamo voluto... abbiamo... non lo so... un timore... boh... un po' inspiegabile. Nel senso... in questo momento... Forse ci ha fatto male star fermi... dieci giorni... era meglio giocare. Però... sono cose che capitano... nel senso che... Purtroppo non... dobbiamo ancora lavorare... dobbiamo ancora lavorare... ancora... pensavamo di... abbiamo fatto un passo indietro. Questo... Niente... di... Altre... dopo altre cose... Dal 9 contro 11... Aver preso il pallo... aver avuto un'altra occasione... già siamo stati bravi. 9 contro 11... ormai... era... chiaramente una partita... No... poi... eravamo... cioè... eravamo sciolti anche nel risultato... quindi... diventava complicato la cosa... Però... siamo stati bravi a... A avere le occasioni... Abbiamo avuto le occasioni... non era facile. Niente... lo vorrei... mercoledì... si rigioca... e vieni... Siamo avanti... Siamo avanti...